Terra Piloti Motori ha ideato una mappa con 13 motopercorsi, disponibile sul nostro sito, disponibile nei centri yacht, disponibili in tanti hotel, in tante strutture, dove il turista con un QR code scarica direttamente la mappa su Google Map nel proprio telefonino per iniziare il suo viaggio nelle marche. Forniamo anche come servizio unico in Italia, la regione insieme a Terra Piloti Motori forniscono delle motoguide certificate, quindi se il turista vuole essere accompagnato, vuole vedere quelle parti del territorio che normalmente non riuscirebbe a visitare perché non sa neanche che ci sono, noi lo portiamo in quei posti lì. Lo portiamo a vedere le collezioni private che sono appunto non accesso pubblico, quindi su richiesta si possono visitare. Abbiamo adesso recuperato insieme ad Asi e al Ministero dei Veni Culturali e al Comune di Pesaro la collezione Morbidelli, gran parte della collezione Morbidelli, che adesso è stata appoggiata al Museo Benelli. Quindi è possibile visitarla e anche quella è una bellissima collezione che non si può mancare di vedere. Noi siamo pronti ad accogliere il turista, abbiamo anche selezionato delle strutture per l'accoglienza adeguata al moto turista. Quindi con alcune caratteristiche che prevede comunque una legge regionale, il moto turista verrà accolto nel migliore modo. Quindi questa pandemia diciamo ci ha bloccato tantissime cose, ma Terra Pilota e Motori ha fatto comunque una grande promozione per raccogliere poi i risultati appena si potrà. Ecco.